FIDING MUSIC FIDING MUSIC è un progetto che consiste in un concorso internazionale per selezionare 50 compositori ai quali commissionare 50 pezzi sui temi di Expo, quindi sui temi di nutrire il pianeta. FIDING MUSIC Sono stati selezionati 50 compositori e in questi giorni stiamo eseguendo le composizioni che sono state scritte appositamente. Una di queste 50 riceverà la migliore e riceverà un premio di 15.000 euro messo a disposizione da Palliglione Italia di Expo. Per cui è un'opportunità enorme per un giovane compositore che arriva dalle Filippine, dall'America, dalla Cina. Grazie. 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 Grazie.